Benvenuti e ben ritrovati, buon sabato con l'informazione di Telesu. Apriamo questo spazio dedicato alla notizia del giorno, lo leggete in sovrimpressione con l'Unione delle Maestranze che va in titolo. Lo avevamo anticipato, adesso la settimana scorsa, oggi arriva la conferma. Sono tre e non quattro, come avevamo detto noi, i gruppi che hanno deciso di tirarsi fuori dall'Unione delle Maestranze che cura i misteri di Trapani. Si tratta del ceto dei fornai, di quello dei pastai e di quello dei falegnami. Ad essi ovviamente si aggiunge il ceto del popolo che già aveva deciso di tirarsi fuori dall'Unione delle Maestranze due anni fa. Si attende a breve la costituzione di una nuova associazione, ma vediamo i particolari nel servizio. In base a quanto stabilito dall'articolo 24 dello statuto che regola l'Unione Maestranze, si comunica la volontà del recesso del vincolo associativo dalla stessa da parte dei seguenti gruppi. La coronazione di spine, ceto fornai, la sollevazione della croce, ceto falegnami, carpentieri navali, carradori e immobilieri, l'urna ceto pastai. Si legge così nel breve comunicato stampa di Ramato questa mattina e con il quale viene ufficializzato quanto era stato da noi anticipato la settimana scorsa. L'Unione Maestranze che cura la processione dei misteri dunque si assottiglia. In un primo tempo fra i dissidenti c'erano anche i barbieri, i quali hanno subito precisato di non essere certi di voler lasciare l'Unione delle Maestranze. Ed infatti oggi non sono annoverati fra i dissidenti. Falegnami, fornai e pastai si affiancano al ceto del popolo che aveva già abbandonato l'Unione due anni fa. A giorni sarà ufficializzato un nuovo sodalizio, una specie di Unione delle Maestranze bis. La decisione inerente alla fuoriuscita dall'Unione delle Maestranze è maturata nel corso di una riunione nello studio di un noto avvocato trapanese. Ma la domanda da porsi è perché questa decisione? Nessuno lo dice, chiaramente, ma è per via dell'imminente rinnovo delle cariche ai vertici dell'Unione delle Maestranze che lo scontro finale sta avendo luogo. Giuseppe Lantillo, come noto, ha terminato il suo incarico triennale e ha deciso di non rimettersi a disposizione. Il suo posto, così dicono i rumors, è ambito dall'architetto Giovanni D'Aleo, sul quale però non tutti convergono. Ed ecco dunque che la frittata è servita. E questa era la notizia del giorno, abbiamo tanto altro ancora da raccontarvi, ma tra poco nel resto del telegiornale. Il titolo di oggi, confronto sull'acqua, continua a tenere banco il dibattito sul bypass di Ciciliacqua tra la rete di Bresciana e Montescuro. Appalto da 25 milioni di euro tutto pronto per pontare i cantieri di lavoro per il porto di Favignana. Per Erice arrivano quattro vele per il mare, il litorale ericino ha tenuto un importante riconoscimento da parte di Lega Ambiente e del Touring Club italiano. Un pallone per la vita, ieri a Parma si è aperta oltre confine questa manifestazione promossa dall'Associazione di Protezione Civile, il Soccorso. E poi, a proposito di sport, stop alle trattative. Il neonato Trapani ha comunicato la rottura delle contrattazioni con Ettore Minore. Rissa l'attuale società che presto potrebbe però trovare integrazione di altri soci. Nell'approfondimento parleremo dei trapanesi e del vaccino intorno alle 14 e 20. Il bypass di Siciliacque tra la rete di Bresciana e quella di Montescuro rimane al centro del confronto tra l'amministrazione comunale di Trapani e i consiglieri di opposizione. Fabio Pace. A Trapani il Consiglio Comunale straordinario richiesto dalla minoranza consigliare sulla creazione del bypass nella condotta di San Giovannello non ha aggiunto nulla di nuovo alla questione. Il sindaco Giacomo Tranchida è tornato a ribadire l'importanza di mettere a regime, in un quadro di aria vasta, le risorse idriche secondo il principio dell'acqua bene comune. Ma non ha chiarito alla minoranza consigliare quale procedura amministrativa e quali atti siano stati prodotti dagli uffici perché alla società Siciliacque sia consentito creare un bypass nei pressi del Cisternone di San Giovannello, dove arriva l'acqua che viene dai pozzi di Bresciana, lo ricordiamo, in concessione esclusiva al Comune di Trapani. La richiesta di Consiglio Comunale straordinario recava la firma dei consiglieri Garuccio, Gianformaggio, Trapani, Cavallino, Ferrante, Lipari e La Barbera. Peraltro in aula funzionari e dirigenti comunali hanno escluso che vi siano lavori in corso presso il Cisternone, quindi il bypass sarebbe solo una progettualità proiettata nel futuro. Non convinti delle dichiarazioni di sindaco e funzionari e del servizio idrico, i consiglieri d'opposizione hanno operato una ispezione presso l'area del Cisternone di San Giovannello, dove in effetti uno scavo è stato operato e un possibile bypass allestito dai tecnici di Sicilacque. I consiglieri, forti della documentazione fotografica, sostengono che già delle palesi violazioni siano state compiute perché non vi è alcun cartello di cantiere che spieghi che tipo di lavori si stanno eseguendo, chi è che li ha commissionati, chi li sta eseguendo. In buona sostanza, i consiglieri di minoranza prefigurano che questi lavori siano di fatto quelli relativi al bypass. L'assessore Nini Romano, da noi interpellato, ha nuovamente ribadito che nessun bypass sia mai stato collegato alla rete idrica trapanese che non sarà reso operativo tecnicamente se prima non ci sarà un protocollo e un accordo con Sicilacque che, in ogni caso, non una goccia d'acqua delle fonti trapanesi sarà trasferita nelle reti sicilacque e che, semmai, sarà quest'ultima a immettere nella rete trapanese l'acqua di Montescuro, pagando anche l'uso delle condotte. Insomma, lo scavo operato da Sicilacque avrebbe avuto solo lo scopo di verificare la fattibilità tecnica del bypass sebbene non vi sia ancora una formalizzazione dell'accordo tra l'amministrazione e la società a capitale misto 20% regione siciliana e 80% veolia, società privata francese specializzata nella gestione di fonti e reti idriche. Parliamo dell'operazione Mare Monstrum. Anche l'onorevole Marianna Caronia esce definitivamente dallo straccio trapanese del processo appunto per l'inchiesta a Mare Monstrum su presunti atti corruttivi e traffico di influenze per favorire gli armatori Ettore e Vittorio Moracea. Disposta l'archiviazione per l'onorevole Marianna Caronia nell'ambito del processo Mare Monstrum su presunti atti corruttivi e traffico di influenze per favorire gli armatori Ettore e Vittorio Moracea. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, Samuele Corso, accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dallo stesso pubblico ministero, Franco Belvisi. Sia il PM sia il GIP hanno escluso un ruolo attivo della deputata regionale in un ipotetico accordo di traffico illecito di influenze, ritenendo non dimostrato alcun intervento diretto da parte dell'indagata su componenti della Commissione Parlamentare e Trasporti dell'Assemblea regionale siciliana o su altri soggetti. L'onorevole Caronia era stata accusata di avere ostacolato nell'ottobre del 2016 la nomina di un consulente della Commissione stessa in materia dei trasporti marittimi, trattandosi di nomina sgradita a Ettore Moracea e di avere ricevuto per tale atto una buona uscita non congrua pari a 100.000 euro da parte della Siremar S.P.A. Al contrario, nel corso del procedimento, gli avvocati Nini Reina e Marco Lo Giudice, difensori dell'onorevole Caronia, assunta nel 1991 dalla Siremar, hanno dimostrato che la buona uscita era inferiore e dunque ingiusta per difetto rispetto a quella percepita da altri dipendenti con livello di inquadramento inferiore. Chiudiamo questa parte di Tg con questo servizio sul porto di Favignana perché è pronto l'appalto da 25 milioni di euro appunto per il porto di Favignana e la Regione che mette a disposizione questi soldi. E' stato fatto un significativo passo avanti verso l'inizio dei lavori al porto di Favignana. L'ufficio del Genio Civile di Trapani, assieme al Proveditorato per le opere pubbliche, ha infatti ottemperato alle precisazioni ambientali indicate dal Ministero dell'Ambiente attraverso la Commissione Via per il Progetto dei Nuovi Scali. Lo ha comunicato il decreto del dirigente generale Oliviero Montanaro, dando dunque il definitivo via libera un'opera finanziata dal Governo regionale con oltre 25 milioni di euro che per l'Egadi segnerà una svolta infrastrutturale storica. A renderlo noto è il Presidente della Regione Nellomusumeci commentando la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni ambientali via decretata dal Ministero della Transizione Ecologica a proposito del piano di messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale nell'Egadi. Il progetto, ha spiegato l'Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, passerà a adesso alla validazione del Dipartimento regionale tecnico per poi, a settembre, poter andare in gara d'appalto, così come preannunciato dal Presidente Musumeci nel corso della sua ultima visita a Favignana. Sarà realizzata una nuova barriera a frangi e flutti, rendendo l'approdo principale dell'Egadi finalmente più sicuro all'altezza degli strategici flussi turistici e commerciali. È stato dato dunque il definitivo via libera un'opera finanziata dal Governo regionale con oltre 25 milioni di euro, che per l'Egadi segnerà una svolta infrastrutturale storica. Soddisfatto anche il Sindaco di Favignana, Forgione, che ha evidenziato come finalmente dopo anni il progetto del nuovo porto di Favignana si sia avviato alla sua realizzazione. Per il primo cittadino dell'Egadi la determinazione della Regione con la convergenza del Comune nel superare tutti gli aspetti relativi alle autorizzazioni e ai permessi nel rispetto dei vincoli di tutela del mare e dell'ambiente hanno consentito di giungere in dirittura d'arrivo per passare a fine estate alla fase di assegnazione dei lavori. Favignana, concluso Forgione, avrà così non solo un nuovo atteso porto, ma un volano per un diverso e più alto sviluppo turistico ed economico per l'intero arcipelago dell'Egadi che, a breve, vedrà anche la realizzazione di un nuovo porto a Marettimo. Le altre notizie tra poco nell'altra parte di Telegiornale. Adesso ci occupiamo delle quattro vele per il mare di Erice, ma anche di un pallone per la vita di questa iniziativa dell'Associazione del Soccorso e poi la parola a Federico Tarantino con lo sport, con le ultime sul nuovo Trapani Calcio. Ma intanto andiamo a vedere il mare di Erice che è premiato con le quattro vele da parte di Lega Ambiente e del Touring Club. Prestigioso traguardo per il mare del litorale di Erice che ha ottenuto da Lega Ambiente e Touring Club italiano il riconoscimento quattro vele, risultando tra i siti selezionati all'interno di Mare Più Bello 2021 la guida annuale sui comprensori balneari più belli e sostenibili d'Italia. Le vele da 1, punteggio minimo, a 5, punteggio massimo sono il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Lega Ambiente. Sono in totale 6 le località siciliane ad aver ottenuto le quattro stelle. I comprensori premiati con le quattro vele sono considerati da Lega Ambiente e Touring Club italiano luoghi di grande eccellenza in grado cioè di coniugare un territorio di qualità con gestione dei servizi di buon livello. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Per il sindaco di Erice Danilo a Toscana si tratta di un riconoscimento non scontato che premia non soltanto le bellezze naturali del nostro mare e la sua vocazione turistica ma anche la capacità di valorizzazione e le buone pratiche messe in atto che ci consentono di mantenere standard così elevati. La Toscana ha quindi tenuto a ringraziare Lega Ambiente e Touring Club per questo riconoscimento. Dietro quella bandiera concluso il primo cittadino ci sono tutti gli ericini che amano il proprio territorio e lo preservano e c'è soprattutto l'importante contributo di chi è impegnato ogni giorno e la salvaguardia del nostro prezioso mare. Nella frazione di Palma del comune di Misidiscemi ieri sera si è aperta la manifestazione denominata Oltre i confini. Si è aperta con questa iniziativa denominata Un pallone per la vita. Vediamo. Al campo di calcio di Palma si è disputata la prima partita tra l'ASD Misidiscemi e la squadra dell'associazione Il Soccorso che ha dato il primo esempio di vera inclusione. La squadra era composta da ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi che hanno giocato con passione nel rispetto degli altri. Come evidenziato dal presidente del soccorso Pino Aceto l'integrazione non si raggiunge solo in un modo ma tramite tante piccole azioni diverse che magari non si cambia il mondo ma almeno ci si prova. Il secondo appuntamento con Oltre i confini si terrà stasera ma stavolta Buseto Palizzolo per la manifestazione dal titolo Come la luce sconfisse le tenebre. Da tre giorni di eventi per abbattere le differenze all'insegna dell'integrazione si concluderà domani a partire dalle 18 presso la sede dell'associazione Il Soccorso lungo la strada di Salina Grande. Una grande festa a trasporto, racconti e musica che sarà trasmessa in diretta anche su zacradio.net, partner dell'iniziativa. La manifestazione organizzata dall'associazione Il Soccorso è patrocinata dal comune di Misiliscemi dal comune di Buseto Palizzolo in collaborazione con l'associazione Misiliscemi. Da oggi è disponibile anche per i cittadini della provincia di Trapani l'innovativo servizio di poste italiane che serve a richiedere l'Isee oppure l'accertamento patrimoniale online o tramite telefono. Vediamo. Bastano pochi minuti per ricevere la documentazione necessaria per richiedere l'Isee o la consistenza patrimoniale direttamente al proprio indirizzo mail certificato. Da oggi l'innovativo servizio è disponibile anche per i cittadini della provincia di Trapani grazie all'assistente digitale di poste italiane. Richiedere il rendiconto annuale dei prodotti finanziari o assicurativi di poste italiane è semplice e veloce. Il cliente registrato e con mail associata potrà contattare il numero telefonico certificato, il voice boot al numero verde 800 00 33 22 oppure dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata utilizzare il chat boot presente sui siti internet di poste.it e postepay.it. A questo punto specificando l'anno di riferimento sarà possibile richiedere la tipologia di certificazione che si vuole ricevere scegliendo tra documentazione Isee o consistenze patrimoniali. Poste italiane fornerà all'indirizzo mail certificato un unico documento contenente tutte le informazioni relative ai prodotti posseduti come ad esempio conti correnti, banco posta, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, carte postepay, fondi di investimento e polizze assicurative. L'assistente digitale poste disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 inclusi festivi è un'intelligenza artificiale rappresentata da un faccino giallo-blu in grado di indirizzare le esigenze dei clienti di poste italiane. Poste è in grado di fornire informazioni come il saldo e la lista dei movimenti del proprio conto corrente, bloccare la carta o ancora richiedere il duplicato del PIN e altro ancora. Nel caso in cui l'assistente digitale non sia in grado di trovare la soluzione provvederà automaticamente a mettere in contatto il cliente con un operatore. E' previsto un fine settimana, già oggi abbiamo avuto le prime avvisaglie di maltempo, ma vediamo i particolari nel meteo. Eccoci allo sport con il neonato FC Trapani Calcio 1905 che ieri sera ha emesso il suo primo comunicato ufficiale ed ha comunicato appunto la rottura delle contrattazioni con l'imprenditore Ettore Minore. Resta l'attuale società che presto però potrebbe trovare nuove integrazioni ovviamente con ingressi societari. Federico Tarantino. Il Trapani esiste e vede la presidenza di Michele Mazzara, almeno per il momento. Ieri sera infatti il neonato club Granata ha comunicato la rottura della trattativa con Ettore Minore. Uno scioglimento che giunge dopo un mese dalla stretta di mano tra le parti, cui però non vi è stato un seguito. Richieste di documenti e tante parole. I fatti invece hanno portato a una rottura tra l'attuale dirigenza del Trapani, nato dal Dattilo, e l'imprenditore che da tre anni insegue i Granata senza riuscirci. Si riparte quindi da Michele Mazzara e dai suoi soci. Una base però che potrebbe essere ampliata a partire dall'inserimento di Norbert Biasizzo, presente nelle ultime riunioni del Sodalizio, che intende formare una squadra femminile nel territorio trapanese. Non dovrebbe essere solo Biasizzo a entrare in società. Il palcoscenico del Trapani, il ritorno del tifo tra gli spalti, infatti potrebbe avvicinare nuovi sponsor o soci con quote di minoranza. Adesso il Trapani dovrà scegliere il direttore sportivo e l'allenatore, figure fondamentali nel club che dovranno collaborare nella scelta dei giocatori che potrebbe vedere delle conferme dell'ultimo organico del Dattilo. A partire da Luca Pagliarulo, ultimo capitano del Granata, che intende ripartire con la maglia del Trapani ed essere il punto di riferimento del nuovo corso. I presupposti ci sono tutti e si devono solamente attendere i tempi tecnici. Già, perché prima va completata la descrizione al prossimo campionato di Serie D e il cambio di denominazione del club già effettuato in sede civile e in fase di completamento con la FIGC. La macchina è stata accesa e adesso si deve correre, ma ciò che è più importante è il ritorno della maglia Granata dopo un anno di assenza. Bentornato Trapani. Ciao ragazzi, oggi parliamo di vaccinazione. Andremo a chiedere il alle persone in quanti lo hanno fatto il vaccino e in quanti lo faranno. Andiamo a chiedere. Lei l'ha fatto il vaccino? Sì. Quale ha fatto? Pfizer. Come si è trovato? Ha avuto problemi? Benissimo, nessun problema. Il vaccino su FIGC? Sì, tutte e due. Quale si è fatto? Pfizer. Come? La vi occhio più in bande, perciò penso. Non ho avuto niente, sono perfetta. Da tisa tisa. Sì, sì, l'ho fatto. Pfizer. Pfizer pure. Sono un dolore dal braccio e basta. Ha fatto il vaccino? Sì, la prima dose. Quale ha fatto? Pfizer. Diciamo, come si è trovata? Senza avuto problemi? Solo dolore nel braccio. Ma secondo lei, facendo il vaccino, riusciamo a debellare questa malattia? Se lo facciamo tutti? Secondo me, no. Che sei fatto? Io e Pfizer. Come ti sei trovato? Perfetto, bene. Bene, ti dio bimbanne, quindi diciamo ti ha dato forse più cari. Bianca da no. Buongiorno, una domanda che la posso fare a Telesud siamo. Parliamo di vaccinazione. Lei il vaccino l'ha fatto? Due non fatto. Due a Cazella. A Cazella. A Cazella. Ok, quindi ne vici due. Come si è trovato? Tranquillo, va bene. E l'ha fatto pure? Sì, sì. Pure a Cazella. Vabbè, non ci preoccupassi. Dici di me, facete il loro vaccino, perché ma se no a Reni giurano, già parlano che vogliono fare la zona Arrancione, ma c'è un studio in piazza, facete quel vaccino. Io ho pure un ufficio, a verità, i genitori vogliono fare a Sciolleca. A Sciolleca, a Sciolleca, a Sciolleca, a Sciolleca sbagliare. E perciò mi vogliono fare un gioco a Sciolleca, e oggi se non voglio, voglio fare un lato già, o come si dice, un freezer, o un freezer, o un freezer, ma fino a manca a dirlo. Perciò faccio di dirlo, mi raccomando, perché ma se no mi potevo trasferire più amici a panna, e che facciamo poi? Ma mi raccomando, ciao figli e me. In questa seconda edizione abbiamo una novità, questo servizio sulle false dichiarazioni e falsa testimonianza, presunto ovviamente, ma sono queste le accuse nei confronti di 25 persone che furono chiamate a deporre nel procedimento relativo alle misure di prevenzione nei confronti dell'ex deputato regionale Pino Giammarinaro. Avviso di conclusione indagini per 25 indagati che devono rispondere di false dichiarazioni e falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento penale che prende le mosse da un'altra vicenda, quella relativa alle misure di prevenzione nei confronti dell'ex deputato regionale di Salemi, Pino Giammarinaro. Nell'assolvere al loro lavoro gli avvocati difensori legali dell'onorevole Giammarinaro hanno operato le cosiddette indagini difensive e hanno chiamato a testimonare i 25 indagati che hanno rilasciato loro dichiarazioni poi confermate in aula durante il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il pubblico ministero Andrea Tarondo assume come non vere tali dichiarazioni e pertanto per i 25 indagati scatta l'accusa di false dichiarazioni al difensore, reato assimilabile alle false dichiarazioni a IPM e falsa testimonianza. L'avviso di conclusione indagini prelude di consueto il rinvio a giudizio. Tra gli indagati anche esponenti politici, l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, l'ex consigliere comunale di Paceco Pietro Cognata, l'ex deputato regionale Giuseppe Lo Giudice, l'ex consigliere provinciale Silvano Bonanno, l'ex ministro Francesco Saveri Romano, l'ex consigliere provinciale Cesare Cobertaldo, solo per citare i più noti. In massima parte gli indagati sono accusati di avere negato o ridimensionato i loro rapporti politici e personali con Pino Giammarinaro. L'indagine è stata conclusa nell'ottobre del 2019, ma solo in questi giorni ha avuto un impulso con l'avviso di conclusione indagini. Gli indagati hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere alla IPM di essere interrogati. Vi ripropongo adesso due servizi che vi abbiamo mandato in onda nella prima edizione, e cioè questo confronto sullo bypass idrico per l'acqua ovviamente a Trapani e poi le fuoriuscite dall'unione delle maestranze che gestisce la processione dei misteri. A Trapani il Consiglio Comunale straordinario richiesto dalla minoranza consigliare sulla creazione del bypass nella condotta di San Giovannello non ha aggiunto nulla di nuovo alla questione. Il sindaco Giacomo Tranchida è tornato a ribadire l'importanza di mettere a regime in un quadro di aria vasta le risorse idriche secondo il principio dell'acqua bene comune, ma non ha chiarito alla minoranza consigliare quale procedura amministrativa e quali atti siano stati prodotti dagli uffici perché alla società sicilacque sia consentito creare un bypass nei pressi del Cisterno di San Giovannello, dove arriva l'acqua che viene dai pozzi di Bresciana, lo ricordiamo, in concessione esclusiva al Comune di Trapani. La richiesta di Consiglio Comunale straordinario recava la firma dei consiglieri Garuccio, Gianformaggio, Trapani, Cavallino, Ferrante, Lipari e La Barbera. Peraltro in aula funzionari e dirigenti comunali hanno escluso che vi siano lavori in corso presso il Cisternone, quindi il bypass sarebbe solo una progettualità proiettata nel futuro. Non convinti delle dichiarazioni di sindaco e funzionari e del servizio idrico, i consiglieri d'opposizione hanno operato una ispezione presso l'area del Cisternone di San Giovannello, dove in effetti uno scavo è stato operato e un possibile bypass allestito dai tecnici di Sicilacque. I consiglieri, forti della documentazione fotografica, sostengono che già delle palesi violazioni siano state compiute perché non vi è alcun cartello di cantiere che spieghi che tipo di lavori si stanno eseguendo, chi è che li ha commissionati, chi li sta eseguendo. In buona sostanza, i consiglieri di minoranza prefigurano che questi lavori siano di fatto quelli relativi al bypass. L'assessore Nini Romano, da noi interpellato, ha nuovamente ribadito che nessun bypass sia mai stato collegato alla rete idrica trapanese, che non sarà reso operativo tecnicamente se prima non ci sarà un protocollo e un accordo con Sicilacque, che in ogni caso non una goccia d'acqua delle fonti trapanesi sarà trasferita nelle reti sicilacque e che semmai sarà quest'ultima a immettere nella rete trapanese l'acqua di Montescuro, pagando anche l'uso delle condotte. Insomma, lo scavo operato da Sicilacque avrebbe avuto solo lo scopo di verificare la fattibilità tecnica del bypass, sebbene non vi sia ancora una formalizzazione dell'accordo tra l'amministrazione e la società a capitale misto, 20% regione siciliana e 80% veolia, società privata francese specializzata nella gestione di fonti e reti idriche. In base a quanto stabilito dall'articolo 24 dello statuto che regola l'Unione Maestranze, si comunica la volontà del recesso del vincolo associativo dalla stessa da parte dei seguenti gruppi. La coronazione di spine, ceto fornai, la sollevazione della croce, ceto falegnami, carpintieri navali, carradori e immobilieri, l'urna ceto pastai. Si legge così nel breve comunicato stampa diramato questa mattina e con il quale viene ufficializzato quanto era stato da noi anticipato la settimana scorsa. L'Unione Maestranze, che cura la processione dei misteri, dunque si assottiglia. In un primo tempo fra i dissidenti c'erano anche i barbieri, i quali hanno subito precisato di non essere certi di voler lasciare l'Unione delle Maestranze ed infatti oggi non sono annoverati fra i dissidenti. Falegnami, fornai e pastai si affiancano al ceto del popolo, che aveva già abbandonato l'Unione due anni fa. A giorni sarà ufficializzato un nuovo sodalizio, una specie di Unione delle Maestranze bis. La decisione inerente alla fuoriuscita dall'Unione delle Maestranze è maturata nel corso di una riunione nello studio di un noto avvocato trapanese. Ma la domanda da porsi è perché questa decisione? Nessuno lo dice, chiaramente, ma è per via dell'imminente rinnovo delle cariche ai vertici dell'Unione delle Maestranze che lo scontro finale sta avendo luogo. Giuseppe Lantillo, come noto, ha terminato il suo incarico triennale e ha deciso di non rimettersi a disposizione. Il suo posto, così dicono i rumors, è ambito dall'architetto Giovanni D'Aleo, sul quale però non tutti convergono. Ed ecco dunque che la frittata è servita.